In questi giorni l'ufficio viabilità sta installando nelle principali vie d'accesso alla piazza 20 Settembre e al corso Matteotti a Fano delle fioriere di sbarramento per rallentare ed impedire l'accesso alle zone del centro storico maggiormente frequentate. Le barriere installate servono ad integrare le misure di sicurezza già predisposte ed in atto in alcuni punti della città e corrispondono alle nuove esigenze di sicurezza indicate da una circolare del Ministero dell'Interno e richieste dal Commissariato di Fano alla luce dei fatti di cronaca che hanno interessato i principali centri urbani europei. Le misure saranno messe a punto dal Comune in una prima fase come provvisorie per verificare eventuali disagi sul fronte della mobilità ed in particolare il soccorso Matteotti a garantire comunque il transito ai mezzi di soccorso e a quelli delle forze di polizia oltre che ai residenti e agli esercizi commerciali. Finita una prima fase di valutazione le fioriere e le barriere saranno sostituite da arredi urbani in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con quelle di uso delle aree urbane. In questa prima fase il Comune di Fano con la collaborazione dei commercianti del centro storico ha già previsto l'abbellimento delle fioriere installate lungo il corso Matteotti anche in previsione dell'evento Fano Fiorisce.